molto più alla grande però non si riusciva a capire bene come si poteva fare eccetera 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 io e mia figlia avevamo deciso di fare una cosa insieme ci ha rubato il covid un po' quest'idea Emma vieni qua un attimo Emina vieni qua dai vieni da papà dovevamo fare una festa insieme lei festeggiava i suoi 18 anni io i miei 60 puoi stare anche sul gradino che tanto se sei più alta di papà non è un problema anzi papà è contento allora lei è Emma quindi facciamo un applauso anche ai suoi 18 anni perché hanno avuto la fortuna di potermi festeggiare bene perché poi a scuola sua qualcuno ha preso il covid quindi gli hanno fatto proprio gli hanno tirato un grande dispetto giusto? di vi voglio bene grazie amore mio bacino a papà brava grazie puoi andare seduta grazie bene allora spingiamo questa candela sei pronto? andiamo? tutti insieme tutti insieme oh yeah se non mi metto a cantare io eh se non lo faccio ecco la galleria grazie a tutti insieme oh happy day oh happy day oh happy day happy day oh happy day oh happy day oh happy day Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501